In corso Umberto nascerà una nuova realtà dedicata agli adolescenti. Martedì 21 giugno infatti apre al centro il nuovo centro di ascolto, aggregazione giovanile e animazione culturale di Casa Rosetta. L'obiettivo è quello di contribuire al processo formativo degli adolescenti, promuovere l'aggregazione tra coetanei e la socializzazione culturale. La denominazione è al centro ed è stata scelta, racconta il presidente Giorgio De Cristoforo, insieme con i giovani. Intende essere un facile riferimento nelle loro conversazioni, ci vediamo al centro. Intende essere un'indicazione topografica con il richiamo alla scelta di Casa Rosetta di contribuire in qualche modo alla rianimazione del centro storico, ma intende anche richiamare la scelta missionaria di Casa Rosetta, che mette al centro della propria azione l'integralità della persona contro la frammentazione devastante di questo tempo. E poi ancora parla di dati. Secondo l'ultimo rapporto del Dipartimento Antidroga al Parlamento, quasi un giovane su 5 nell'età 15-19 anni ha detto di aver assunto sostanze psicoattive illegali nel corso dell'anno. Cannabis in prevalenza, ma anche crack e un quinto degli utilizzatori ha abitudini di consumo a rischio di sviluppare dipendenza. Preoccupa inoltre il forte aumento del consumo di crack, anche tra adolescenti di 14-15 anni, con effetti devastanti e in gran parte non reversibili. L'apertura di al centro, conclude il presidente De Cristoforo, rappresenta anche un servizio di prevenzione in senso molto esteso e con le sue consulenze sarà a disposizione anche dei genitori, che si trovano in difficoltà con i cambiamenti legati alla crescita dei propri figli, dove il loro punto di vista risulta essere di fondamentale importanza per la costruzione della storia dell'adolescente. E mentre ancora la struttura in cerca di finanziamenti, si prevedono già da settembre diverse attività nel centro, dal laboratorio musicale a quello di arte, cineforum e incontri di orientamento per gli studi e il futuro lavoro, sotto la guida di operatori di Casa Rosetta e volontari qualificati. E' anche presente una sala studio fruibile negli orari di apertura del centro. L'idea di Casa Rosetta, spiega la psicologa Emanuela Cutaia, coordinatrice e supervisore del comparto dipendenze patologiche di Casa Rosetta, è stata confrontata e sviluppata nei mesi scorsi in incontri e focus group con studenti delle scuole superiori della città, con lo scopo di costruire un modello che risponda il più possibile alle aspettative e alle necessità dei giovani. Negli incontri è emersa la necessità di uno spazio aperto dedicato al protagonismo delle nuove generazioni, autonomamente gestito attraverso l'attivazione di una sala studio e di promozione alla lettura, laboratori teatrali, di musica, di disegno, arte e fumetto, attività di orientamento professionale, attività sportive. L'iniziativa ha una funzione educativa e di animazione, prosegue, può avere notevole importanza per gli adolescenti in quanto promuove l'aggregazione tra coitanei e la socializzazione culturale, contribuisce al processo formativo inteso come ricerca e costruzione di senso, di acculturazione, di apprendimento di competenze e abilità sociali, e più complessivamente alla costruzione di un diverso rapporto con le dimensioni dello spazio e del tempo, con il mondo adulto, con le istituzioni, con le aziende e le associazioni del territorio.